Sarà all'avanguardia, polifunzionale, ecosostenibile e darà una risposta concreta al mondo sportivo regionale. È la nuova piscina che entro ottobre 2020 sorgerà nella zona dell'aeroporto a Fano con accesso da via San Michele. Il progetto, sabato scorso, è stato presentato ufficialmente alla cittadinanza dalla Fondazione Carifano, dal Comune e dai progettisti. Il nuovo centro natatorio avrà quattro vasche, una per bambini, una per la scuola di nuoto, una terza per la riabilitazione con ingresso indipendente ed infine una più grande di 25 metri per 21 con otto corsie di due metri e mezzo ciascuna. A completare l'impianto ci saranno gli spogliatoi, una tribuna da 250 posti e una caffetteria accessibile anche dall'esterno. Abbiamo ceduto la casa Don Paolo Tonucci, la casa di riposo di proprietà della Fondazione, le abbiamo cedute, in cambio abbiamo avuto una somma considerevole e con quella realizziamo la piscina. Quindi nel 2020 la Fondazione consegnerà questa struttura, questo centro, lo consegnerà presto e lo consegnerà al Comune, il quale dovrà poi gestirlo attraverso una cooperativa o un ente con una gara d'appalto o direttamente se vuole. Noi dovremmo dare questa struttura per 30 anni in uso gratuito al Comune di Fano. Di che investimento si parla? Si tratta di 5 milioni. Il progetto che rimarrà in mostra a Palazzo Bracci Pagani nel centro storico di Fano è stato predisposto per realizzare in futuro anche una nuova vasca olimpionica da 50 metri e un ampliamento dei parcheggi. Intanto il prossimo 2 gennaio inizierà la bonifica bellica dell'aria mentre nel mese di marzo prenderanno il via i lavori per la costruzione della nuova struttura. Oggi finalmente questo sogno si realizza. Una piscina bella architettonicamente ma anche funzionale, moderna che tiene conto di tutto ciò che un utente ha bisogno quando va in una piscina come questa. Mi piace contestualizzare anche il contorno. Si tiene conto anche dell'aspetto pedonale, ciclabile, le macchine arrivano fino a una certa distanza. Veramente una struttura innovativa, molto bella e non possiamo dire di non essere orgogliosi perché questo è un grande momento, un momento storico per tutta la città.